Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Black e oggi siamo su compravendita guidata Come vedete ho preso questa Pogba a 6200 quando il suo prezzo si reaggira intorno agli 8000 crediti Super giuro, ho preso il compra ora, mi raccomando Pogba 84, non quello 83, quindi non fate cazzate mi raccomando E ora lo andrò a mettere a un prezzo di 8100, adesso sto andando a cercarlo con un prezzo massimo di 7100, un prezzo minimo di 7000 E come vedete non ne troverò una 7000 ma bensì a 5000 crediti, che ovviamente mi aggiudicherò E si serviva molto facilmente, mi sono stupito perché subito, mi usciva dopo 10 secondi Ora qua il prezzo è 8000, c'era uno 7800 ma comunque il prezzo è lo stesso Ok, come vedete ne ho, sono riuscito a comprarne 6 e venderli tutti a 8100 e un a 8100 Ci ho fatto 10k, nel frattempo cosa ho fatto, sono andato a comprare Vitolo Tots a 2750 e Perisic a 1250 Come vediamo il compratore di Perisic per lo minimo dovrebbe essere sui 14000 crediti Ed è uscito ora uno, quindi cosa faccio, lo andrò a mettere a 13500 crediti In modo che me lo possano comprare subito in 2-3500, insomma, il tempo è quello Poi andiamo a cercare Vitolo e vediamo il suo prezzo Ok, che si gira intorno ai 24000 crediti, sì 25000 crediti E quindi andrò a mettere a 24750, in modo che sia l'unico che me lo comprano e me lo compro Tanto per 300 crediti non ha che mi cambia la vita Come vedete me l'hanno subito comprato in meno 3 secondi E aspetta che mi comprano Perisic, che me la compreranno subito Nel frattempo ho preso Jordi Alba a 1200 crediti Con questo prezzo a 5000 crediti e ci ho fatto un affarone Veramente, veramente un grande affarone Il prezzo è intorno ai 5000, se andiamo a cercare a poco Vedete che ne ho trovato uno a 2200 subito in un batter d'occhio E lo andrò a mettere tutti e due Lì andrò a mettere tutti e due a 4900 crediti Questo sarà un po' più difficile da vendere, ma vabbè Essendo l'unico a 4900 di sicuro me lo compreranno Intanto sto aspettando, neanche sto a tagliare il pezzo Perché di sicuro me lo compreranno Vedete ci sono tutti e quelli che compreranno tutti a 5000 crediti E infatti me l'hanno subito comprato E sono a 65.000 più questi 4.900 che mi porteranno a 70.000 crediti Che era il mio obiettivo per questa puntata Il prossimo obiettivo per l'ultima puntata è arrivare a 100.000 crediti Per concludere questa serie Voglio approfittare questo momento per dire che io e un mio amico abbiamo aperto un canale in 2 Che si chiama Gamer su tubo dove facciamo i video insieme Quindi se volete dargli un'occhiata Metterò il link in descrizione Quindi per questo video è tutto Ciao a tutti da Black